Dio non può stare senza di noi, ci ama come un padre che sa solo amare e con Gesù possiamo chiamarlo papà, babbo, lo ha sottolineato Papa Francesco nella Catechesi dell'Udienza Generale tenuta in piazza San Pietro e dedicata alla paternità di Dio, sorgente della nostra speranza. Guardando alla preghiera del Padre Nostro, il Pontefice ha ricordato che riassume tutto il mistero della preghiera cristiana, avere il coraggio di chiamare Dio con il nome di Padre, cosa che non è scontata ma ci permette di invocarlo come un bambino che si rivolge al suo papà sapendo di essere amato e curato da lui. È la grande rivoluzione che il cristianesimo imprime nella psicologia religiosa dell'uomo. Non c'è nessun padre in questo mondo che si comporterebbe come il padre misericordioso della parabola, ha aggiunto il Papa, perché Dio è padre alla sua maniera, non umana, buono, indifeso davanti al libero arbitrio dell'uomo, capace solo di coniugare il verbo amare. Un Dio che nutre questo tipo di amore verso i figli, ha commentato Francesco, è un mistero insondabile. Noi possiamo anche professarci senza Dio, ma non siamo mai soli. Il Vangelo di Gesù Cristo ci rivela che Dio, che non può stare senza di noi, lui non sarà mai un Dio senza l'uomo. È lui che non può stare senza di noi. È questo mistero grande. Dio non può essere Dio senza l'uomo. Grande mistero è questo. E questa certezza è la sorgente della nostra speranza, che troviamo custodita in tutte le invocazioni del Padre nostro. Quando abbiamo bisogno di aiuto, Gesù non ci dice di rassegnarci e chiuderci noi stessi, ma di rivolgerci al Padre e chiedere a Lui con fiducia. A conclusione della catechesi, Papa Francesco ha chiesto ai fedeli di pensare in silenzio ai propri problemi e necessità e di pensare al Padre che non può essere senza di noi e che in questo momento ci sta guardando e ha chiesto di pregare tutti insieme il Padre nostro.